Mi sono preso Galio Talon, Pantheon, scusate Sono sempre buoni in questa situazione o no? A parte Galio si Talon e Pantheon si Pantheon jungler è piuttosto buono Non penso sia tra i migliori Ma è un ottimo pick assolutamente Mentre invece Talon Pure non è tra i più pickati Però come Assassin specialmente L'Uell è fortissimo Galio invece è un cesso mi dispiace Te lo dico sinceramente Galio l'ha imbaffato Non mi ricordo cosa gli ha imbaffato Adesso lo controllo subito Però è proprio il concetto del campione Che non è il massimo Ah la Q Va bene Non è un grand che purtroppo Mi dispiace Galio costa un botte A parte che il costo non c'entra nulla Con la forza del champ Ma c'entra con quando è uscito I champ più I champ gli ultimi che ne escono Costano di più E quelli più vecchi invece Scendono di prezzo Quindi non ha nulla a che fare Con il costo Però insomma è vero È vero Galio È debole ragazzi Non Potete dire quel che vi pare Potete dire che vi piace Che ha la sua utilità Che fa danni La ulti Ah carina ulti Però La ulti c'è un raggio Il range della ulti è bassissimo Non può più flashare Mentre carica il taunt Non è neanche così tankoso Per i danni che fa Cioè non Ma cosa ho visto Hello Cosa ho visto Vabbè Grazie Matt 04 Can't tempt the jungle anymore Addio Così impari Grazie Matt Benvenuto Nella Fierix Arnie Benvenuto Nautilus potrebbe No Nautilus si è offeso Pochè l'ha lasciato morire Amo Picchialo Ttttttttt Ciao Kick Ok Ok Bobby Questi Sono dei danni Discreti Avesse uto ignite Potevo killarla Però non mi aspettavo Forse sono a mid Sinceramente Lo ammetto Non me l'aspettavo Non me l'aspettavo Che fosse lei Trinda è già morto È morto di infarto Il carretto Vabbè Tanto ormai Tutto bene Tutto bene Bawacco Tu come stai Meno male A saperlo A saperlo Ho preso Ignite Sicuramente Oppala Guardi che pizze Si è presa Questa Ragazzi ma avete Avete visto le pizze Che ha preso Silent Ciao caro Silent ragazzi È È uno che Piano piano Dona cheers Su cheers Pochi alla volta Chissà dove arriverà Sto ragazzo Come stai Bello Sta trollando Più di te È vero Ah mannaggia Sto scudo qua Dunque Andiamo con questo Ed è l'attack speed E si va Si vola mid Una cosa Allora A me un po' dispiace Che la bomba di testa Una faccia danno a D Anche se scala a P Ehm Scusate Un pochino mi dispiace Però vabbè Eba guacco Non come la sto facendo io Oddio Oddio che danni che inizia a fare Oddio ma questa che cazzo è Niente Niente Sto tittato a scampia Dio buono Da scampia Sto tittato Aspetta che cazzo mi devo No non è questo Questo Vabbè La passia scala a P La passia mi da range La passia di lei si Come tutta lei Avevo la doppia V Lì il problema non è stato Oddio sto arrivando Oh yes Che fa Sona Dai Lasciatemi una kill Oh Gesù Oh Gesù No Che palle Puffete Bombe Consiglio di imparare Kaiza o Xai E sinceramente sono indeciso Attualmente Kaiza è molto più piccata Però Non giocando a D-Carry Non te lo so proprio dire Mi dispiace Non te lo so proprio dire Kaiza è più difficile Ma Doe cazzo è andata questa? Va bene It's bocelli time Per caso Oh ma che cazzo volete? Ma Mumu raga Non sta hittando nulla Madonna santa Mumu Boom Ormai che ci sono io Posso avere uno spam di bocelli Per questi jungler Per favore Io ti faccio saltare in aria Ecco qua Molto bene E' già tornata Oddio non me l'aspettavo Giuro My bad Qua sono stato tantissimo Però non mi aspettavo tornasse E probabilmente è arrivata immediatamente Proprio non ha fatto altro Peccato Vabbè Mi ha smitato Get smited Capita nella vita ogni tanto Di essere smitati dai champ nemici Non ci si può fare nulla Purtroppo è una situazione da accettare Del resto smite Vuol dire punizione Quindi insomma Il massimo dei danni Mi consigli Come fare il massimo dei danni possibili Con Talon Oltre a buildarti full damage Non te lo so dire Cosa Cioè di Di colpire tutte le spell Questo penso che sia Il consiglio migliore che posso dare Però non so se è quello che ti aspettavi Dai Voliber ma perché stai scappando da quel lato Dove cazzo è andato Che palle Ecco qua Fixato Questa scala è rapidi di strana Tutto La W Lei e la ulti La Q no perché è una spell Che ti dà attack speed Help Ma io Ho killato il top lane Ah potrebbe arrivare tutti i mid Back Ci prendiamo questo Ma work almeno Ci ho fatto una penta Che l'è finita su synapse pure Quindi Un pochino si Con che vince l'ho preso Grabbalo Oppala Ok Ma quante volte pingano lo smite Questo è tizio qua Beh Ha subito molti danni ragazzi Pensavo di farle più danni Non gliene ho fatti Unlucky A boom Pia si è fatto affegare il Drake con lo smite Ah davvero Non l'ho visto Vabbè Il problema di strana P è che non è forte Cioè è viabile ma non è forte Perché alla fine tu la giochi come la giocheresti a D Cioè devi lanciare la bomba e autoattaccare comunque E non è che l'aiuti più di tanto questa cosa La vedo male sta penta Quale penta? Io ho fatto una volta la penta con Tristar Io vedo peggio il fatto che Qualsiasi persona in questo globo viene mid per uccidermi Però va bene Va bene Guarda guarda Ok Però insomma Ce lo facciamo andare bene lo stesso Anzi sapete cosa? Tanto ho già capito che mi va a finire sto game Andiamo di zonia Cioè è tanto Eh però non sta andando così male vedo Siamo 18 a 15 quindi Tutto sommato Oddio Ecco No non ci credo Non si salva così No non si salva così Che cazzo è questo? Mamma mia Quanto veloce Sicuro c'è qualcuno Eh sì Ok Ok Pike Flash Va bene Albumo Flash Si è fatto bene L'avrebbero ucciso Eh Vacci 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 Oppala Good Questo è buono Potremmo fare l'airal adesso Se vinissero tutti Cosa che non so se accadrà No Vabbè ma questi sono dei babbuini Comunque Questi sono veramente dei babbuini Oddio Via Vai state vicini così scupiate La nostra botta è intato Nel vero senso della parola proprio stavolta Nemmeno soft Spera di far più danno Lo ammetto Lei tanka troppo E che c'hai pure i tabi La me come ho detto Fa danno a D Non a P Questa cosa Non è molto bella Oddio Oddio W Trinda No No Eh lasciamola andare Dai tanto Non era fuori posizione Porca troia Quello tanka troppo Ah Non ho più mana Vorrei andare back A prendere il mio stopwatch Sinceramente Oh yes Ok Dai che si sta rigirando il game Si sta rigirando il game Io non ho mana Non seguo la call Mi dispiace Vai Proviamo il Mejai Giochiamo super safe E cariamo la partita Non devo più andare Non devo più andare a cazzo duro Con la scava P di Tristana Tutto W e ulti Sto giocando Tristana Mamma 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 ha perso un'altra Oh madonna Che tragedia Projungle Ma Niente Big flame Grazie Silent Silent E' I'on tutti Vabbè Grazie Grazie mille Silent Sei Stragentile Boom Good Vai, li abbiamo puniti, sti babbuini Ma questo è un altro babbuino È un babbuino invisibile e troppo veloce Ok, grazie ancora Silent, dai che la cariamo sta partita Adesso andiamo via che mancano tutti Mi serve 1.400 Oddio ragazzi Definizione di babbuino, invisibile e troppo veloce Sì, dovrebbe essere un'ottima definizione questa Non lo so Mumu, secondo te cosa sto facendo? Figlio di puttana C'è pure provato a rubarmelo ragazzi Rendetevi conto come si è ammessi Cioè sto cercando di carri a sta partita I miei alleati vogliono rovinarmi la partita Anzi voglio rivenere la loro stessa partita No, qua sta per succedere qualcosa Per succedere qualcosa Oh Va bene, quindi? Ok Oh minchia, non c'avevo la zona nel posto giusto Stavo rischiando un sattro Scritto in chat all, bene Così è per tutti Non è solo per Mumu Oppala Bobby è top line, adesso andiamo anche da lui Bene Bene cazzo Dai regà Dai regà cazzo Maron de San Gendar Grazie Zestil Grazie mille le sub E bentornato una Felix Salmi Noice Mamma mia Come sto difendendo sta torre Guarda Puffete Poi guardate che wave clear C'ha Tristan a P Cioè apparentemente quando uccido un minion Esplode tutta la wave E grazie a Andreas Ragazzi mille del quarto mese Bentornato Bello nella Felix Salmi Buoni State buoni State buoni E ok Boom Che non serve assolutamente Però vabbè E noi ce la tiriamo lo stesso E noi ce la tiriamo lo stesso Sta bomba Frega cazzo Se non serve Dai forse senza il team nemico Mumu può prendere un drago Senza che venga out smitato Vi lo pinghiamo così Da ricordare che ha lo smile Dai Mumu ce la puoi fare Shut up Oh Povera Mumu Oh E questo? Oddio ce l'ha fatta Cazzo è sto beduino qua Sparisci Legendary figli di puttana È aumentato il sub In che senso? No Costa sempre 5 euro Tranne se Guardate l'app Perché l'app fa schifo di Twitch Non dovete guardarla Quindi no Costa sempre 4,99 Can you suck my dick if you want? Beh e se non volessi Mi sa Mi sa a Mumu che dovrò rifiutare l'offerta Boom Boom Ah eh Buongiorno ragazzi Com'è bello avervi tutti qui Ah Ma m'ho ucciso davvero con così tanta vita Ma saperlo il lavo Ma che cazzo è? Mi prende con un hitbox indecente Con un terzo di vita Vabbè Ok Ok Eh lo smetto non è pronto Eh lo smetto non è pronto Una domanda che non mi ha fatto nessuno in sta partita In sta partita Di AP e di Tristana AP scalano W e ulti C'è tutto L'inglese Questo lo fa abbastanza pena Ragazzi Allora Il livello di inglese È proporzionale all'elo Come proporzionale anche La qualità del computer Delle persone che ci giocano Grazie main man Grazie mille caro Sei mesi Bentornato nella Firizani Sì Esatto Proprio la zona Sono ancora troppo Non posso lanciarmi YOLO Lì in mezzo Però se c'è Nautilus Diciamo di sì Bella Crono Prova grace AP Ma mi segui da ieri Per caso No Eppure è il sub da tre mesi Grazie del sub Bello Ovviamente spero tu mi Stessi trollando Masins Forse devi aggiornare la pagina E cliccare sul tasto Condividi Forse non hai fatto Quel passaggio lì Comunque Ah Nautilus è lì Che balla Benissimo Noi lo accettiamo Guardate che danni fa La passiva Della mia Ma Abbiamo deciso Di givappare Ah ok Ma abbiamo deciso Di givappare la partita Non ho capito Eh non ho fatto in tempo Alla zona Per creare la partita W Ok Vieni Ah 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 Very nice Troll Ah Spampingo qui Spampingo là Il mio support È andato You are the worst Nice troll Di cosa sta parlando Oh Report Sup Retarde You go sole You flame I need tank Adilo al tuo premede Di merda Che è andato Afka Magari Boom I had lag Allora sì Sei giustificato Eh Poverino Laggava lui Laggava lui Povero Povero Ma è Cosa sta succedendo Sento del sale In queste parole Dici Ma Cosa te lo fa pensare Non capisco A me Sembrano discorsi Quotidiani C'è roba che senti Proprio tutti i giorni No Basta Prendere in giro I bro Oh Diciamo le cose Come stanno Basta Questo è uno Questo è uno Dei game stereotipo Comunque Devo dire Sono molto contento Questo è il game Stereotipo Dell'Iron Ha messato La cure sul George Ha messato Ha usato Lo smite A me Ha fatto un sacco Di cose In tutto ciò We need Baron Sei sempre Il migliore Grazie Cree Grazie mille Di sei mesi Ben tornato Nella Felix Oh Ma io ti bombo Non hai capito nulla Allora Ma dovevo andare Babbè What the fuck Ok no Good Boom L'inibitor Non volete L'inibitor Amumu è partito Amumu è partito Amumu è partito Lui continua Per la sua strada Lui continua Dove va Va a farmare Il blue buff Amumu va a farmare Il blue buff No E invece Torna in lane Attenzione Amumu Ha preso La sua decisione Dopo che il team Sta vincendo la partita Senza di lui Attenzione Cosa sta succedendo Però Ma che cazzo vuoi Vai e dirgli Dei miei amici Eh Ok Sono stato smanitato Attenzione Amumu Decide Che poto attaccare Il nexus Amumu vince Amumu ha capito Che si attacca Il nexus Vince Bravo Bravo Amumu Mamma mia Ragazzi E poi Dicono Che Gli iron Sono stupidi Amumu ha capito Che si attacca Il nexus E lo distrugge E vince Come fate a dire Che sono stupidi Honor Shot caller Bravo Amumu Bravo Cazzo Lui si Che sa Come vincere I game Ok Va bene Te lo succhio Il cazzo Ho deciso Mi hai convinto Amumu Mi hai convinto Dopo questa performance A succhiarti Il cazzo Come me l'hai consigliato Grazie Amumu Per aver cariato Questa partita Oh Oh Le Un applauso E' riuscito a fare Meno danni Di tutti Partendo con l'oggetto A jungle AP Grande Mamma mia Devo asciugarmi Il sudore ragazzi A più Amore Gigi Amumu Hai ho Dio Ed è la verità L'ho anche onorato Grazie Cri Dei sei